Un bug nel percorso formativo ed educativo delle famiglie che va assolutamente ripianato per impedire situazioni di degrato con al centro gli adolescenti. È fondamentale che le famiglie riprendano il percorso educativo dei propri figli e l'appello del sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo le notizie di ragazzini al centro di episodi di violenza, specialmente nel fine settimana. L'ultimo in Mianenni, sabato sera, dove un adolescente è stato picchiato da alcuni coetanei durante una lite. Famiglie poco presenti, purtroppo genitori distratti e sempre pronti a puntare il dito contro gli altri, ad eccetto che contro i propri figli, che sono difesi sempre senza sé e senza mas, bilendo anche il ruolo fondamentale di educazione nelle scuole. Ai miei tempi c'era la bacchetta e quando il maestro o l'insegnante o il professore la usava, i figli andavano a casa a protestare, i genitori andavano dai professori e gli dicevano la usi, la usi. Una nuova società dunque che resta sempre più slegata dalla realtà, anche per colpa dei social e dei telefonini. Purtroppo tecnologia, secondo me, a queste società di oggi, a questi ragazzini di oggi non fa troppo bene, perché attraverso queste cose si mettono dalla mattina alla sera e basta. E si perde il controllo della vita, la vita sociale è bella quando si è uniti. Un'attenta valutazione di quelle che potranno essere le politiche in questo senso sarà fondamentale per lo sviluppo della società moderna.